FT azienda agricola allevamento e vendita di chiocciole sono con Serena buongiorno Serena buongiorno a tutti allora raccontaci dell'azienda e dei prodotti che cosa fate e dove siete siamo allora noi ci troviamo ad ortovero piccolo comune dell'entroterra di albenga noi alleviamo le chiocciole e poi abbiamo un laboratorio con il macchinario per l'estrazione della bava quindi tutto quello che riguarda la cosmetica rassicuro innanzitutto tutti è un procedimento assolutamente indolore per la chiocciola viene soltanto stimolata a produrre questa bava con una soluzione a base di acqua e acido citrico quindi limone è importante dirlo anche proprio per le persone che sanno anche che tipo di prodotto possono trovare acquistare anche perché ho una sensibilità ovviamente maggiore grazie Serena è tutto naturale ecco ecco qui abbiamo alcuni prodotti posso far vedere ecco abbiamo questo il siero viso con una concentrazione del 75 per cento di bava di lumaca indicato soprattutto per il trattamento del contorno occhi le rughe d'espressione ecco oppure anche una semplicissima crema mani molto indicata per questo periodo dove magari la pelle un po più secca certo e qua c'è tutta la linea ecco e magari in questo periodo anche autunnale abbiamo anche questi integratori gli sciroppi per la tosse ecco io oggi ho mal di gola ad esempio ecco senza voce potrei testarlo esatto quindi abbiamo già trovato la testimonia l'oggi Serena perfetto bene quindi comunque voi avete anche un sito internet sì ecco abbiamo eccolo lì tutuccifilippo.wixsite.com potete trovarci anche sulla pagina facebook ecco devo dire l'elicicoltore mio marito io lo aiuto molto molto volentieri bene ti ringrazio allora grazie molto gentile